Senza il nuovo applicativo UMA, utenti motori agricoli, da gennaio sono al rischio 40 milioni di euro e o per 17 mila aziende agricole sarde, è quanto denuncia la Coldiretti Sardegna, che sottolinea come il vecchio applicativo si è superato in quanto presenta delle limitazioni tecniche che ne impediscono di fatto l'utilizzo. In ballo ci sono 75 milioni di litri di gasolio che consentono il funzionamento dei mezzi agricoli di migliaia di aziende sarde. L'accisa agevolata, spiega in una nota l'associazione agricola, consente per ogni litro di carburante un sostanzioso risparmio fiscale che si stima in poco meno di 40 milioni di euro. Numeri importanti che meritano la massima attenzione ed interventi celeri, viste le implicazioni che comportano sui bilanci aziendali, rileva il presidente dell'associazione, Battista Qualbu. Una corretta e funzionale assegnazione al carburante agevolato richiede una tempestiva informatizzazione e un immediato aggiornamento delle procedure. L'attuale applicativo invece presenta delle limitazioni tecniche per quanto riguarda i fascicoli aziendali validati in modalità grafica, adesso obbligatoria per il 100% dei fascicoli aziendali. È necessario per la Col di Retti utilizzare già per le assegnazioni del 2018 le variazioni delle tabelle in base alle quali si determinano i consumi di gasolio per i lavori agricoli emerse dal tavolo tecnico composto da Assessorato all'Agricoltura, Argea, Laore, Agris, associazioni di categoria. La posta in palio è molto alta soprattutto di questi tempi, conclude il direttore della Col di Retti Sardegna, Luca Saba. Per questo chiediamo la massima attenzione perché il sistema sia semplificato e funzionale evitando costi aggiuntivi ad un comparto con l'agricolo già gravato da una pesante crisi.